Formula 1. Dopo l'incidente di Schumacher in Inghilterra, dopo il botto senza conseguenze di Achinen in Germania, ecco, questa mattina nelle prove libere del Gran Premio d'Ungheria, il violento impatto della Sauber di Jean-Alesi contro le barriere di protezione. Dopo aver urtato leggermente l'arros di Pedro de la Rosa, che procedeva lentissimo all'uscita della prima curva, Alesi ha sbattuto contro il guardrail alla sua destra. Per precauzione, forse eccessiva, ma ormai è così, il francese è stato portato in ospedale a Budapest per un controllo, ma poi è tornato in circuito camminando sulle sue gambe, pur con la caviglia sinistra indolenzita per la botta. Problemi anche per Giancarlo Fisichella, una particella plastica gli è entrata in un occhio e lo ha costretto ad interrompere le prove libere.